ciao amici ciao amiche yeah ben ritrovati sul canale davide chiara channel volevo raccontarvi un inedito che mi farà morire da ridere come ben sappiamo siamo a novembre fra un mese natale sabato praticamente sono andato a conoscere la zia di mia moglie la donna simpaticissima cordiale c'era anche di mia suocera abbiamo preso la macchina siamo andati a casa di mia suocera perché mia moglie deve iniziare ad addobbare la casa per natale fra quattro giorni è un mese esatto a natale ma la sua tradizione è iniziare a fare l'albero il 24 novembre come vedete se non mette il becco non è contenta la signora ma la cosa più bella allora purtroppo sono stato costretto a prendere la macchina del comune perché la mia è guasta le macchine enjoy del comune sono le 500 purtroppo hanno tolto le 500 xl che erano belle grandi confortevole e comode voi sapete che io ho dovuto caricare la 500 era piena a tappo esagerato lei dice che qualcosina ci stava ancora ragazzi se quel sabato sera lì un semplice posto di blocco dettagli mi avrebbe fermato mi avrebbe preso la patente secondo me l'avrebbe fatta talmente a pezzettini me l'avrebbe messo in un sacchettino in una busta non so in un fazzoletto detto natale questo è la cosa di natale fatti il tuo bel puzzle ma per lei sono dettagli cioè ragazzi la 500 la sappiamo com'è uno scatolone di vabbè io non posso inquadrare però fate conto che uno scatolone di guardate le mie mani le sposto un po' più in qua lo scatolone più piccolo è così vedete che a malapena si vedono i palmi così lo scatolone il più piccolo è largo così è alto vedete che le mie mani però fate conto che quando non vedete più le mie mani cerco di stare proprio facciamo finta alto così ma uno dei più piccoli è ma si può che anzi prima mi dice amore il 24 novembre facciamo l'albero che sarebbe si festeggia 24 sera diciamo che è un mese a natale no ha cambiato quest'anno si fa prima allora in camera mi ha messo un pupazzo di neve che mi sembra poverino che gli hanno salito uno schiacciasassi con delle gambe con i piedi così la pancia tutta gonfia ma farò vedere che bello ve lo farò vedere vi farò vedere poi come la stare attaccata la porta dentro è una ghirlanda grossa che sembra una ruota di scorta sembra una ruota di scorta questa ghirlanda ma vedete che si mette sempre di mezzo nei miei video sempre il becco deve mettere ma perché sempre il becco deve mettere sulle mie cose guardate guardatela sempre il becco questo taglio questo taglio questo taglio questo non si taglia niente ma come si fa a fare io capisco ciao a tutti io capisco la tal edizione di natale ma fare l'albero un mese prima se non un mese e 15 giorni prima adesso se mi interrompe ancora sul mio video guardate che è una carognetta cioè lei sui video tutti zitti sull'attenti come militari io che voglio fare un video cioè sopportiamo tutti gli addobbi di natale e va bene anche sto povero poi vi farò vedere sul divano in sala vi farò vedere dei pupazzi sono tre pupazzi che i poveri mi sembrano che sono tornati dal vietnam vabbè vero devo subito anche lo kitty sono circondato ma poi oltre tutto questo devo sopportare guarda cosa è successo ma la smetti di interrompermi quando io faccio un video guarda fai vedere cosa è successo guardate così ci aveva attaccato la verba e si è staccato ma mamma mia voglio cucire adesso glielo butto anzi no questo qua quasi 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 io lo cucio un pantalone lo faccio fare come coda perché ragazzi io qua sono circondato dal lo kitty che a capodanno farà una brutta fine sono circondato anche da rosa perché se io vorrei un bianco io adesso c'ho la stanza guarda che lì c'è bianco la cosa eh cioè vedete sempre che mette la postazione make up è bianca amore io ho attualmente abbiamo la stanza fondo bianco spugnata ad azzurro però adesso voglio togliere questo spugnato perché mi ha stancato vorrei fare la classica bianca giusto però lei cosa vuole la parete la parete dove appoggiamo la testa dove c'è la testata del lettone una striscia bianca e una rosa una bianca e una rosa ma vi sembra giusto? vi sembra giusto che io debba subire tutto questo supplizio? certo è rosa è lo kitty è di qua è di là vi sembra giusto? si abbasso è lo kitty abbasso è lo kitty abboniamo è lo kitty ma aiutatemi per favore abboniamo è lo kitty vi prego ma sai che non stai registrando? è partito il flash? pensi se non stai registrando controllo ma perché mi devi sembra? io guardo la prossima volta i video me li faccio di nascosto vado in bagno a farli nel mio ufficio non lo voglio più sopportare il rosa sopportare lo kitty sopportare già gli adobbi di natale ma cosa sei il grinch eh? ahahahah amore ma inalania sto video non fa ridere eh? sei lamentoso sì 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 mi piace essere lamentoso perché la devi smettergli di ottenere quello che vuole cioè guardate qua è lo kitty guardate qua il piumone di lo kitty sto paico di è lo kitty si è messa a letto è attaccata al computer con un cappuccio c'è una felpa di mini con il cappuccio è una mantella una mantella per stare in caldo c'ho 80 anni devi mettere una mantella amore è una mantella per stare in caldo da freddo per stare in caldo da primark una mantella per stare in caldo da primark è tutta in caldo da primark è tutta in caldo bambucchiata eh non ce l'ha proprio io non so ma adesso tiriamo le somme o me o è lo kitty è rosa si o me o è lo kitty o rosa devi prendere la decisione è lo kitty e rosa avete sentito? allora faccio baracca burattini ciao avete sentito? avete sentito? a capodanno giuro che una cosa di lo kitty una cosa di lo kitty va giù dal balcone o dalla finestra no dal balcone gliela spi... gliela spi... gliela spi... li ha pranzi... e c'ne sono cose qua di lo kitty occhio occhio no a natale per forza a natale qualcosa di allo kitty deve no natale scusate capo danno qualcosa di allo kitty anche questa gigio qua va benissimo adesso che fa freddo va bene questa mantella è stupenda lui che parla tanto che dice l'ho scoperto perché mi è capitato il cellulare che è arrivata la notifica si mi voleva comprare una cosa di lo kitty che fa tanto stai zitta non mi rovinare i miei video giustamente per natale volevo fare una soprasina tanto cosa di puoi fare lei è lo kitty e basta no comunque volevo dirmi una cosa più sera adesso su questo canale sto notando che gli iscritti stanno aumentando sempre di più vi ringrazio di cuore cercate di innanzitutto spolliciate 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 trattiamo davide fatemelo sapere qua sotto in un commento deve sempre rovinarmi l'immagine vi auguro una buona se devo tenere la belva perché è agitata basta aspetta vabbè amici ma guardate il piede panno sono poveri sono poveri calze rosa guardate 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 calze rosa amici vi saluto ma è anche il mio il canale si ma se posso leggere il video non mi rompe un bacione a tutti quanti yeah e mi raccomando alla prossima al prossimo video ciao ciao ciao